Grazie Presidente. Io vorrei cominciare col dire che l'intervento del Presidente della Commissione Mobilità, Enrico Stefano, io lo condivido al 100%, è un'analisi molto lucida di quello che è accaduto in questi anni. Oggettivamente la situazione di Roma metropolitana è una situazione estremamente seria ed è una situazione su cui giustamente stiamo ponendo un'attenzione molto alta, perché è giusto che sia così. Sì, effettivamente se noi quando abbiamo fatto la delibera sulla liquidazione avevamo parlato di uno scorporo, così come ha detto il Presidente della Commissione, avremmo dovuto forse avere un pizzico di coraggio e più tutelando al 100% tutti i lavoratori e cercare di seguire quel tipo di strada. Ora effettivamente la situazione si è un po' incartata e dobbiamo necessariamente trovare una soluzione. Dico questo, mi preme dover intervenire, perché sono state dette tante cose in quest'Aula, si è un po' allargato il discorso rispetto anche a tutte quante le partecipate. E detto francamente questo attacco a testa bassa rispetto a quello che l'amministrazione ha effettuato con tutte le partecipate è veramente non condivisibile per niente. Noi abbiamo salvato ATAC, lo dico con estrema chiarezza, sia i lavoratori che la città devono ringraziare che in questa consigliatura stia governando il Movimento 5 Stelle che è l'unica forza politica che siede in quest'Aula e che aveva l'intenzione di mantenere pubblica ATAC, pubblica. Io sono convinto che se vincevano altri ATAC l'avevamo privatizzata da quel dì, invece abbiamo trovato le soluzioni e siamo andati avanti. Peraltro in questa situazione di crisi sono stati acquistati autobus, sono stati assunti i lavoratori, peraltro c'è anche la storia delle assunzioni dei lavoratori che devono passare da tempo determinato a indeterminato, si sta generando un piccolissimo ritardo burocratico con tre mesi di proroga ai lavoratori che devono passare a tempo indeterminato e non può che essere così, non può che essere così. E' stato detto anche dalla sindaca, insomma noi ci abbiamo lavorato tanto su questa cosa. La stessa cosa anche per AMA, abbiamo messo 700 milioni su AMA tra settembre e aprile 2021, abbiamo trovato un buco da 250 milioni, un lavoro enorme che è stato fatto dall'assessore Lemmetti, da tutti coloro che hanno lavorato ai temi del bilancio, per cui per carità Roma Metropolitane effettivamente è stata forse la più ostica che noi abbiamo trattato e c'è una grandissima attenzione di quest'Aula a far sì che si arrivi ad una soluzione. Abbiamo votato degli atti, peraltro lo ha detto anche la consigliera Montella, la Corte dei Conti ci ha indicato che noi abbiamo votato una delibera in cui parliamo di liquidazione e poi ci sono degli atti, che sono mozioni, che abbiamo votato in quest'Aula in cui chiediamo di mettere in bonus. Dobbiamo arrivare a un dunque su questo, oggettivamente è vero. Per cui confermo l'attenzione della maggioranza a trovare assolutamente una soluzione, respingo categoricamente queste dichiarazioni di sfacelo, di guai lasciati al passato su tutte le partecipate e su cui invece è stato fatto un grandissimo lavoro da questa amministrazione. Grazie Presidente.